Si è concluso a Venafro il torneo regionale di Scacchi, per la seconda volta la città molisana ha ospitato la prestigiosa competizione che incorona nuovi campioni, numerosi partecipanti da ogni parte d'Italia che si sono scontrati nel Palace Hotel, ma da avere la meglio è stato Francesco Terzano, scacchista, tesserato con il Monforte di Campobasso, dagli organizzatori del circolo Scacchi Pilla di Venafro la soddisfazione per la riuscita dell'evento. Contiamo di replicarla anche negli anni a venire, quindi di fare crescere ogni anno un po' di più questo torneo, anche perché Venafro è la città degli scacchi, qui abbiamo la scacchiera più antica d'Europa, il Museo di Santa Chiara, che è datata a 970 d.C., quindi è una rarità, anzi devo dire unica. Giocatori di ogni fascia d'età si sono cimentati per dare scaccomatto agli avversari, in gara anche campioni già fermati come il molisano Antonio Petruccioli e Sergio Mariotti, il primo scacchista italiano ad aver ottenuto il titolo di grande maestro internazionale. I scacchi sono molto utili, a me sono stati molto utili nel corso della vita, anche per fare carriera nel mio lavoro, perché si pensa molto più a lungo delle cose importanti e sul da farsi nei momenti decisivi.